Dal punto di vista della storia religiosa di Borgaro, la presenza delle suore della carità di Santa Giovanna Antida è stata importante da più di cento anni. Hanno educato tanti ragazzi all'asilo, hanno aiutato la comunità, hanno animato tante persone e sono una presenza che c'è in tutto il mondo, anche alcune di queste suore sono state qui, sono andate missionarie e in particolare la beata Nemesia Valle è vissuta qui dal 1903 fino al 1916 ed è stata fatta beata proprio per la sua opera di educatrice.